Ogni cosa ha suo tempo, è necessario anche lo svago, i giovani ce ne danno conferma. Ecco un'allegra comitiva in una delle tante scampagnate estive, la meta questa volta la Madonna del Piano. Ecco gli scalatori sull'ultima rampata. I divertimenti non mancano ed i più belli sono quelli improvvisati. Ecco un numero veramente eccezionale. In azione l'Arcinota...